L'associazione Banca del Tempo ha già stilato il programma per il futuro, si parte ad ottobre, si finisce ad aprile. Cosa c'è in programma? Allora, io nei miei progetti abbiamo fatto, insieme agli altri che ci daranno queste ore, abbiamo fatto attività infermieristiche, è una figura professionale, l'arte presipistica, modelli e cucito. Poi abbiamo lingue, lezioni di inglese italiano, attività musicale che è una nuova iniziativa della Banca del Tempo, che sono persone anziane che hanno formato una piccola orchestra. Poi abbiamo la pratica di esercizi linguistici in lingua straniera e italiano, ripetizione per classi superiori, corso di scacchi il primo livello e una creazione di pittura sul vetro fatta da un professore di tolfa che è una cosa meravigliosa. Questo poi lo presenteremo per il mese di ottobre. I giorni di attività saranno scelte secondo le disponibilità degli iscritti. Le nostre attività sono svolte da professionisti. Per informazioni, associazione Banca del Tempo, martedì e giovedì dalle 16 alle 18. Nel frattempo io mi sono proposta di fare un rendiconto anno del 2017-2018. Com'è andata? Scambi della Banca del Tempo. Guarda, è andata. Nonostante io sia stata assente quattro mesi per un infortunio, però lo gestivo da casa. Chi si era reso conto che era capo di un'associazione mi seguiva e abbiamo avuto 62 ore di taglio, 70 ore di cucito, 38 ore di carta modelli, per un complessivo totale di 170 ore. Poi abbiamo avuto 40 ore di inglese, il primo livello. Il secondo livello di inglese, 35 ore. E ripetizione inglese-italiano, ore 38, totale 113 euro. I risultati sono stati ottenuti, nonostante l'associazione Banca del Tempo è rimasta senza la sua presidente per motivi di lavoro e per motivi di salute. Però chi era a capo di queste iniziative ha portato avanti fino alla fine. Bilancio positivo, si può migliorare ancora? Si può migliorare ancora perché stando sempre in attivo e stando sempre in sede possono venire delle nuove iniziative, degli nuovi incontri, incontrare persone, tutte queste attività che noi facciamo da 17 anni.